Squadra nuova quest'anno, come ti stai trovando? Mi sto trovando bene, col francese non va ancora benissimo, ma insomma la nostra squadra è abbastanza internazionale diciamo perché abbiamo un po' di spagnoli, un colombiano, un estone, un lituano, insomma si parla un po' di spagnolo, un po' di inglese quindi è un po' più facile, comunque è tutto bene. Non c'è il tour, però ci sarà comunque un calendario importante, quali obiettivi ti sei posto primari? Sì, non facciamo il tour, è un peccato, speravamo, insomma, ci fosse la wild card, ma insomma abbiamo un ottimo calendario ci tengo a far bene bene alla Parigi inizia, oltre a tutte queste corse alle quali parteciamo, insomma, soprattutto qui inizio stagione voglio cercare di ottenere in tutto il massimo risultato, poi sarà molto molto importante la Parigi inizia. Ti hai fiducia della squadra? Sì, sì, il team manager, Frederic, vedo che ci tiene molto, insomma, sento già dalle prime corse, insomma, la fiducia della squadra è massima quindi in cambio avranno da me il 100%. che guardano nel luoglio iniziale poi lo città «Logio sta менееplo colante al siamo testруд mistrfire. Grazie a tutti.